Bentornati a Senza un Briciolo di Tesla, faccio subito i saluti iniziali, siamo in tre oggi quindi un saluto ad Andrea naturalmente Ciao a tutti E Alessandro alla guida Ciao ragazzi Allora, è stata una settimana che secondo me ha avuto una notizia superiore a tutte le altre, ossia quella relativa ai dati collegati al passato trimestre Quindi è andata bene, è andata male, è andata bene anche se molti articoli la presentano come male, mi spiego Anno su anno non c'è stata una crescita, bene quindi rispetto al Q2 2023 si è un attimino ridimensionato il numero delle consegne Credo di un 5% potrei sbagliare il numero preciso, però le stime erano ben peggiori Le stime erano ben peggiori, nel senso che si pensava si arrivasse a circa 420.000, 430.000 Alcuni analisti ottimisti pensavano 440.000 In realtà siamo andati oltre, siamo andati a ben 443.000 unità Siamo arrivati a 443.000 unità consegnate quasi 444.000 E questo è un dato molto importante perché innanzitutto ha battuto tutte le stime e soprattutto anche quelle di analisti che sono affezionati a Tesla La persona che seguono da vicino il brand e dimostra che non c'è nessun tipo di lato consegne Possiamo dirla così, anche se il crollettino c'è stato anno su anno È stato un dato che però la borsa ha apprezzato tantissimo perché il titolo è schizzato da circa 190 dollari ad azione Adesso siamo, finita la settimana, a 250 dollari Quindi veramente una salita incredibile Vediamo se riusciranno a mantenerla Entriamo nel mese prima del robotaxi Quindi immaginatevi nel contesto Tesla succedono un sacco di cose E lascio a voi Beh, intanto si spiegano, a parte che non è una novità Però si spiegano le varie politiche di Tesla che a fine trimestre mette in atto per cercare di vendere di più Quest'anno abbiamo visto che vuoi perché il bonus colonine Quello dopo, arriva dopo una puntata Il bonus delle auto elettriche è finito in nove ore Vuoi perché stava finendo il trimestre Vuoi perché i dati sapevano che non erano dei più rosei Sono state fatte in Italia almeno delle operazioni di marketing Che almeno nei 3.000 euro erano inedite Non mi pare di ricordare sconti monetari Introdotti da Tesla Per raggiungere gli obiettivi che si era prefissata per fine trimestre Quindi evidentemente se dovesse succedere un'altra volta Che magari vediamo uno sconto monetario Magari non qui ma in altri paesi Potrebbe essere già sintomo Per chi gioca in borsa come il bonus Google Che magari Tesla sta facendo una politica aggressiva Perché deve cercare di recuperare un pochino il margine O meglio le vendite che non sono arrivate magari durante quel trimestre Per cercare appunto di arrivare al numero target che si erano prefissati Poi per quanto riguarda la notizia Il 5% non è così impattante secondo me Come dici tu poi la borsa non è che abbia reagito così male alla notizia E' normale nel senso che bisogna vedere un po' tanti Anche effetti degli altri produttori di auto elettriche Come sono andati gli altri Perché se Tesla perde il 5% E c'è qualche altra casa che vince sopra Tesla Quindi anno su anno ha fatto di meglio Allora lì possiamo valutarla come una cosa negativa per Tesla Il mondo delle auto elettriche non cambia niente di fatto Se Tesla perde il 5% anno su anno Allora ci sono tanti punti da analizzare Il primo è che le elettriche stanno crescendo a livello globale Quindi abbiamo visto in Europa Volvo Che ha fatto dei numeri clamorosi Grazie proprio alla EX30 Insomma i numeri stanno salendo in generale a livello global Per tutte le elettriche Il dato importante è che Tesla in Cina rimane il numero 1 Per quanto riguarda veicoli elettrici puri Nel senso che BYD se la cava molto bene Parlo lato elettriche pure Però rimane ancora dietro Tesla Ovviamente se prendiamo in considerazione plug-in hybrid e tutto il resto Allora schizza in alto BYD e chi la prende più Però intanto Tesla dice la sua e si difende proprio con i denti Il dato che secondo me è passato sotto traccia È quello relativo alla energy Alla parte energy di Tesla Perché ragazzi noi lo diciamo da 3 anni ormai Tesla a parte che non è un'automotive company Ma soprattutto è una Per adesso poi diventerà un'AI company Oggi è una energy company È una energy company I Megapacks Sapete cosa sono vero? Tutte quelle belle batterie messe insieme Per cercare di dare stabilità alla rete Ok? Quindi vengono vendute per tutto il pianeta Un po' in Nuova Zelanda Un po' in America Ecco io vi dico che il dato è che nel Q2 2024 Sono stati deployed Si dicono In inglese si dice così Messe in opera Sono immessi Esatto Sono stati immessi Tra virgolette Nel nostro mondo Quasi 10.000 megawatt ora Di capacity Cioè di batterie Cioè di cosa stiamo parlando? Io vi dico solo che nel Q1 Eravamo a quota 4.000 Cioè c'è stato Proprio il raddoppio quasi Più del raddoppio È un dato clamoroso Perché quelle sono veramente Delle batterie che Costano Ovviamente E Tesla su di loro Ha degli ottimi margini Il fatto che siano già arrivati A questa cifra Deve far pensare Che la capacità produttiva Di L'Athrop Penso si chiami così La sede La fabbrica di Tesla Che ha negli Stati Uniti È di 40 gigawatt ora Ok? Quindi Noi siamo a 10.000 Cioè 10 gigawatt ora Per adesso In questo trimestre Piano piano ci stiamo arrivando E non solo Ne stanno costruendo una A Shanghai Anche lei Pensata per 40 gigawatt ora All'anno Cioè Consideriamo Giusto per dare Giusto per dare Una Una scala A questi numeri Perché chiaramente Quando si parla di kilowatt ora Magari l'auto elettrica È facile Perché si capisce Una macchina è 70 kilowatt ora Gigawatt ora Quanta roba è? Giusto per darvi un'idea L'Italia Come sistema Italia Tutta l'Italia Consuma circa 300 Tera watt ora Di energia Se non ricordo male All'anno Quindi Insomma Non è che sia proprio Tantissimo Se lo mettiamo A paragone Di questa È mille volte Di più Di quello che ha prodotto Anzi 3000 volte di più Di quello che ha prodotto Nel Q2 Però comunque Chiaramente Questo mercato È in fortissima espansione Per tantissime motivazioni Altrimenti Tesla Ovviamente Non ci metterebbe Non ci metterebbe Mano Insomma E il portafogli Per costruire Un'altra fabbrica Perché sicuramente È uno dei mercati Che nel futuro Giocheranno Giocheranno Molto bene in borsa Secondo me Semplicemente Per il margine Comunque Idealmente Si arriverà A 80 gigawattora All'anno Di capacità Cioè Nel senso Capacità produttiva Adesso Abbiamo già quasi Massimizzato La capacità produttiva Di L'AFROP Tra un po' Partirà Shanghai Però Già il fatto che L'AFROP Sia quasi a regime È un dato importantissimo Perché solo il trimestre Precedente Era a metà Della capacità produttiva Cioè ragazzi Per farvi capire La velocità Con cui va Questa Questa azienda Cioè Arriviamo quasi A 100 gigawattora All'anno E ok Che l'Italia Ne ha bisogno Ben di più Però Pensiamo che Questa È una soluzione Per cercare Di dare un pochettino Più di stabilità Quindi se già Anche solo Se venissero introdotti In Italia Ho capito che di notte Non manderemmo avanti Tutto il paese Probabilmente Con queste batterie Però Se di giorno Ci aiutano le rinnovabili E poi mettiamo Comunque Anche Che ne so Altre Centrali Poi Idroelettrico Tutte Tra le rinnovabili Quelle non rinnovabili Ma soprattutto Queste batterie D'accumulo Eh Diventa divertente Specialmente Se poi Prima o poi Il prezzo Delle batterie D'accumulo Che tra l'altro È un mercato Che sarà Alimentato Poi naturalmente Dalle batterie Dismesse E magari Anche non Ricondizionate Volendo Perché alla fine Della fiera È la circolarità Ordinaria Della vita Di una batteria Che da una macchina Finisca a fare Quel lavoro Lì Però È pur vero Che oggi Un Powerwall 2 Se ricordo bene Va intorno ai 10-12 mila euro Per 12 kilowattora Mentre una batteria Mentre una batteria Di una Model 3 Se ricordo bene Va intorno ai 15 mila euro Per 70 kilowattora Fai anche 20 mila C'è una sproporzione Talmente evidente Che prima o poi Non potrà Cioè questa distanza Dovrà cambiare Beh perché Ora è un mercato Molto molto di nicchia È stato Sicuramente Da questo punto di vista Il Superbonus Non ha aiutato Perché chiaramente Ho fatto che è gratis Tra facendo installare Lo stesso Però è anche È anche vero Che prima o poi Dovranno avere Dei prezzi umani E allora Se un Powerwall Da 12 kilowattora Me lo posso comprare Con 2-3 mila euro 3 mila Quello che lei Adesso non ha fatto La proporzione al volo Vabbè Però Per capirsi È un prezzo umano Ma cambia tutto il discorso Perché apri La porta A una domanda Molto Ma molto Superiore Che ora La produzione Non sarebbe proprio Un grado di soddisfare Secondo me Arriverremo prima A me ne ha parlato Tesla Poi Non so gli altri Ma secondo me Arriverremo prima Alla Soluzione V2G V2H Cioè La macchina cede E acquista E prende Energia Dalla Dalla casa Perché Perché è molto Molto più semplice Da realizzare Secondo me Se tu immaginati Adesso non so Quante unità familiari Ci siano in Italia Unità abitative Spariamo un numero Un milione Ok Se volessimo mettere Un Powerwall Per casa Per tutti quanti Sarebbe un milione Di Powerwall Ok Installazione Manutenzione Tutto quello che ci va dietro L'auto Più o meno Ce l'hanno già tutti Quindi prima o poi Quando ci sarà Il famoso cambio Delle auto Se uno dovesse acquistare L'auto elettrica Questa dovesse essere Anche V2G E sarà risolto In quella maniera Il problema Sempre parlando Solo dell'unità abitative Se poi mettiamo Anche quelle cose futuristiche Dove i lampioni In strada Diventano anche Loro Generatori Di energia elettrica Nel senso che Ti cedono L'energia elettrica E possono riprendere L'energia elettrica Dalla vettura Allora lì Abbiamo fatto Abbiamo già risolto Il problema Quindi secondo me È molto più semplice Che Arriveremo a una soluzione Dove le auto Possono acquistare E cedere L'energia Alla rete elettrica Per andare a Stabilizzarla A fare quello che è Giusto per fare due conti Prima ho fatto Mentre parlavi Teale E Aspetta che non ce l'ho qui Ce l'ho pensato di avere sul telefono Comunque Più o meno Quella capacità produttiva Di Tesla Annua Su ogni Delle fabbriche Ognuna delle fabbriche Che stavamo citando prima Quindi 40 gigawattora Annui Basta per soddisfare Mediamente Il fabbisogno energetico Italiano Per un'ora Per quello che producono Loro in un anno Lì Per i Megapack Il fabbisogno energetico D'Italia Di un'ora Di consumo Quindi chiaramente Siamo proprio A scale Veramente Cioè Dovrebbe esserci Una produzione Talmente Più grande Per poter arrivare A una soluzione Magari solo rinnovabili O Dove I Megapack Possono anche essere utilizzati Come tampone Per eventuali blackout Di questo tipo Che Non credo che ci arriveremo mai Cioè è più probabile Che verranno vendute Lo stesso quantitativo Di auto All'anno Con una produzione Di batteria Per le auto È vero È pur vero Che però Si tratta di una produzione Appunto ad accumulo Cioè quello che produci Quest'anno Si sommerà A quello che produrrai L'anno prossimo Eccetera eccetera E noi stiamo parlando Solo di Tesla In questo momento qua Poi salteranno fuori altri Vedi Cutler Vedi Panasonic Vedi tutti i produttori Perché quello è Un mercato Secondo me Dove ora La capacità produttiva Non riuscirebbe comunque A stare dietro A una domanda Di quel tipo lì È una transizione Anche in quel senso lì Però ci sono degli scenari Notevoli Come dicevi giustamente te Nel momento in cui Cedo l'energia A un lampione Chi me la paga Come me la paga Quanto me la paga Come funziona Quel contratto Cioè Anche dal punto di vista Dei rapporti Con delle aziende Si aprono Scenari nuovi Lo scambio sul posto Pare che Dicono Finirà quest'anno Per esempio Dall'anno prossimo Dovrebbe esserci Solo il ritiro dedicato Che è un peggioramento Cioè dove stiamo andando Ancora Io faccio fatica A capirlo Un po' perché Sicuramente Non abbiamo Una classe politica Mediamente illuminata Che sappia tracciare Delle direzioni Con un minimo Di Lungimiranza Che vada oltre Le elezioni successive Voglio dire Però Ci sarà Insomma Ci sarà Pregano Veramente Degli scenari Nuovi Secondo me Nel frattempo La macchina È andata in park Mi sta muovendo Esatto No no È Un discorso affascinante Però Andre ti voglio Fare una Una così Una proposta Di calcolo Prendi Il numero Di Tesla Di autovetture Tesla Consegnate Durante l'anno Quindi Un milione e mezzo Facciamo Arrotondiamo Un milione e mezzo Di vetture Fai una media Per Veicolo Di kilowattora 60 70 Va 70 Sì Fai 70 Un po' Eh Sì Io ho fatto Un milione e mezzo Per 60 Vabbè Ok Viene fuori quanto Visto che l'hai già fatto il conto Viene fuori 90 milioni Di 90 Milioni Di Chilo Di Chilo wattora Quindi sono 90 Tera wattora Quindi questa è già la capacità Produttiva Ovviamente Acquistando Aspetta Acquistando da Cutl Acquistando da LG Acquistando da Panasonic Però era per far capire Quante batterie si Producono al mondo No Certo Perché uno dice Giustamente Se guardo sti numerini Qua Ma come 80 gigawattora All'anno Che roba è In realtà Sì Se tesla Produce E butta fuori Tutte quelle vetture Lì Con quelle batterie Da un Posto O dall'altro Deve recuperarli No Questi Tera wattora Ok Quindi Non siamo Lontani Da una capacità Produttiva Compatibile Con le richieste Di alcuni paesi Siamo Lontani Dalla capacità Produttiva Di Megapacks Secondo me Cioè È proprio Quella La difficoltà Tesla Tesla Li sa fare Bene E Tesla Guadagna Tantissimo Ma tantissimo Su Ognuno Che consegna Cioè quindi È questo Secondo me È lo step Che dobbiamo fare Esattamente come Ali diceva Powerwall Costa tantissimo Rispetto alla batteria In rapporto Della mia auto È vero E figuratevi Il Megapack Ed è il motivo Per cui io Sottolineavo All'inizio Che attenzione A dire che L'azione è cresciuta Perché c'è Questo sentiment Generale Sulle vetture Che hanno Sono state buone Lato numeri Le consegne Sì Ma Tesla Energy Diventerà Un cavallo Fortissimo Per il futuro Di Tesla Almeno per il futuro Imminente Perché poi ci sarà FSD Poi ci sarà L'intelligenza Artificiale Ci sarà Optimus Ragazzi Ogni volta Vi diciamo Che ci sono Mille strade Per il mondo Tesla Ma quella Dell'energia È una Di quelle Più sottovalutate Perché senza L'energia Non funziona Niente Quindi Teniamo anche presente Come giustamente Cioè io sono andato In questo Tana dal bianconiglio Per calcolare Per fare quei conti Ma in realtà È quello che dici tu Cioè i Megapack Non sono stati pensati Per Togliere il blackout Dalle nazioni Sono stati pensati Come stabilizzatori Di cosa E eventualmente Reagire a piccoli blackout Quello lo fanno bene Stavo solo ragionando Che magari uno pensa Ah Megapack Fico cazzo Così Non serve più Non so Comprare l'energia A questo No attenzione Perché per arrivare A quel livello Lì bisogna produrne A pacchi Ecco A Megapack Vabbè Dopo questo Comunque Tornando ai dati Delle nostre Care autovetture Tesla Parliamo dell'Europa Perché Il buon Fabrizio Ha commentato Su X Un post Di Roland Pircher Vedete Ci sono tutti questi Intrecci di pareri Bellissimo Insomma Però Qual è il problema Dell'Europa La Germania La Germania Sta andando male È inevitabile Cioè Non si può non dirla Questa cosa Non ci possiamo nascondere La Germania Sta deludendo Sono state consegnate Adesso vado un po' Per ordine In questo trimestre In tutta Europa 79.000 Tesla Ok Il problema È il secondo Trimestre Dove si scende Quindi Già nel primo trimestre Eravamo scesi Un pochettino Rispetto a quello precedente Questo trimestre Scende Ulteriormente Rispetto al primo trimestre 2024 Ok Quindi stiamo scendendo Però Però Attenzione Perché L'anno è fatto Di tanti mesi E c'è stata Una piccola flessione In positivo A giugno Perché a giugno È stato Il miglior mese In assoluto Per distacco Di tutto il 2024 L'Italia Ha aiutato Ovviamente Con le sue Quasi 5.000 Unità Perché è uscito Il numero Quasi 5.000 Tesla Sono state Così Consegnate Nel nostro Bel paese Quindi Se vedete Qualche Tesla In più Non è casuale La questione La questione Però Aprile Maggio Di questo trimestre Hanno deluso Sono stati Molto Molto Bassi Praticamente Maggio È stato È stato Meno della metà Di giugno In termini In termini di consegne Sto parlando Non dell'Italia Perché uno dice Gli incentivi No Sto parlando Proprio di tutta L'Europa Purtroppo la Germania È il motivo Di tutta questa Di tutta questa Disfatta Però Attenzione Per fare un po' Il paragone Con il 2023 Come siamo messi A giugno 2023 Come siamo messi A giugno 2024 Oggi A giugno 2024 A fine giugno 2024 Siamo L'11% In meno Cioè Più bassi Rispetto All'anno scorso Questo vuol dire Che c'è del tempo Per fare meglio Ci sono ancora Luglio E tutto il resto Dei mesi Fino alla fine Dell'anno Per cercare Di rialzarsi E sistemare Non solo La Germania Ma magari Spingere di più Su altri mercati Perché comunque Tesla Ok che è vincolata Alla Germania Ma si può migliorare La situazione Insomma Un'Europa Che con Tesla È un po' In flessione Negativa Ma è molto Localizzata Questa sensazione Alla Germania Quindi scusa Visto che c'è I dati sotto mano L'anno scorso Maggio Era andato Molto meglio Di quest'anno Quindi Te lo dico Subito Allora L'anno scorso Era andato Molto meglio Quasi il doppio No Meno Del doppio Rispetto a quest'anno Esatto Aprile Era stato Vicino E giugno Era andato Meglio Di questo giugno Nonostante Questo giugno Sia stato Sia stato Il miglior Mese Perché abbiamo Tesla Ha provato A recuperare Con mega Incentivi Probabilmente Anche in altri Paesi Perché Si è recuperato A giugno Secondo me Non siamo stati Solo noi Ad avere Qualche piccolo Incentivo Però Non è stato Sufficiente Per tornare A quello Che era successo L'anno scorso Non abbiamo Nemmeno pareggiato Il giugno 2023 Cioè con questo Giugno 2024 Non abbiamo Pareggiato Il giugno 2023 Però abbiamo Sicuramente Rialzato Cioè ridotto I danni Diciamola così No la La differenza E chiudo La differenza Tra maggio 2024 E maggio 2023 È di circa 10.000 Unità E son tante Perché A maggio 2023 Sono state Consegnate Quasi 30.000 Vetture A maggio 2024 Meno di 20.000 Ok Giusto per Mettere in chiaro I numeri E poi E ricordiamoci Visto che vogliamo Guardare Tutta L'annata No Ok Concentriamoci Su marzo Marzo 2023 Ragazzi È stato Il panico Non so cosa sia successo Non mi ricordo Perdonatemi Però Ci sono state Consegnate In Europa Quasi Più di 60.000 Vetture Più di 60.000 Tesla Quest'anno 40.000 E porca Misera Sono 20.000 Vetture In meno Cioè Sono mica Poche È un 33% In meno È proprio Un bel 33% Pulitissimo Ale Bisogna Che cambi Auto Sì Sì Allora Dopo Liban Ve l'ho detto Il sponsor Il sponsor Il sponsor Mi raccomando Trovate una mail Per mandare le vostre proposte Qua in descrizione Se volete Partecipare Alla colletta Ci puoi fare Io sto facendo La gara di resistenza Su lungo termine Della macchina Quindi vediamo Quanto durerà Esatto Poi sono ligure L'ho sempre detto E quindi O me la regalano Proprio devo dire la verità Sì Al netto Anche Le novità Software Hardware Cioè Alla fine Della fiera Vero Quella nuova L'Island È costruita Molto meglio Lo dicono tutti Ma questa Dopo 4 anni Al di là È da pulire Dentro Perché è un po' Che no Però È ancora Una signora macchina Cioè Soprattutto Avete visto L'aggiornamento Che arriverà Cioè Arriva un sacco Di roba Mi manca Aggiornatemi Aggiornatemi L'aggiornamento Magari sotto mano Non riesco a leggere Vado Vado Allora Partiamo con la mia Novità preferita Che mi sta facendo Tentennare Perché Porca miseria Non me l'aspettavo Così presto YouTube music Andiamo Vabbè Arriva Arriva Con l'aggiornamento 2024.26 Si parla Dell'arrivo Di YouTube music Amazon music Il parental control Viene rivisto Possiamo Settare La Massima Allora Viene introdotto Cioè Viene introdotto Se hai un figlio Che Quindi Tu sei il genitore Non hai Ora sono utenti Normali tutti Quando tu hai Un figlio Registrato come figlio Potrai Settare delle cose Come ad esempio La velocità massima Della macchina Per lui E Avere sotto controllo Sempre la situazione Figo Molto E poi sono maggiorenni Secondo me è un po' più per l'America Perché alla fine della fiera In America Iniziano a guidare Così a 16 anni Se ricordo bene Che anche quando diventa Maggiorenni Da noi Oggettivamente Un figlio Che ha la patente A più di 18 anni E legalmente Cioè Non è che devi controllarlo Ecco Magari Però È limitazione di velocità Magari sì Cioè Limitazione di velocità E sì Più altro di potenza Cioè io ho sempre pensato Quel fatto che c'è una legge Che dice Che Un neopatentato Non può guidare una macchina Con più di tot potenza E cavolo Invece di farmi comprare Un'altra macchina Fammi settare questa In maniera obbligatoria In qualche maniera Cioè mi riconosce Che è alla guida E se alla guida C'è un neopatentato La macchina va Entro quei limiti Di potenza Questa sarebbe Una cosa grandiosa Perché ho visto gente Comprare la macchina Apposta per i figli Perché la macchina Che aveva Era superiore Ai limiti Magari non programmavano Voglio dire Sospese Vai vai avanti Fra Vado avanti Con le altre novità Abbiamo la navigazione Verso le subdestination Che sono tipo Che ne so I terminal degli aeroporti Quindi quelle Destinazioni lì Abbiamo le previsioni Meteo e qualità Dell'aria Che però si pensa Sia una feature Pensata più per la Cina Che per Worldwide Almeno vediamo Il menu Il menu ridisegnato Per la programmazione Della ricarica E del precondizionamento Il pannello Del climatizzatore Ridisegnato Quindi praticamente C'è stato Una sorta di restyle Quando attiviamo La funzione Auto Automatica Del climatizzatore La ventola Verrà regolata Automaticamente Per ridurre il rumore Durante una telefonata Bella chicca questa Quality of life L'applicazione zoom È stata aggiornata Per funzionare Anche a schermo intero E poi Vabbè Aggiornati alcuni giochi Il solito Politopia Di Elon Che è il suo gioco preferito E poi Anche è stato rilasciato Il Tesla Mic Che è un microfono USB Per cantare in auto In stile karaoke Ma anche qui Si pesa più per la Cina No Aspetta Quelle due feature lì Quella del tempo E quella del microfono Sono feature che sono Già in Cina E che vengono estese Anche all'Europa Ah ecco Ok Quindi il microfono Che da 2-3 anni Viene venduto Per non sia bluetooth Non USB Per cantare col karaoke Che sarà acquistabile Anche da noi Ok Ok Allora Like China Era come in Cina Cioè come già in Cina Ok Pensavo Likely Fosse un errore Probabilmente solo Cina Pensavo Invece no no Ok 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 No 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 E credo anche di Far la cazzata Di comprarlo Però Vediamo quanto costa Ah per forza Ma solo per il design Cioè Stupendo Io mi ricordo Ma per sentire come suona Perché io sono molto curioso Con l'amplificazione Che c'è in macchina Dal punto di vista Del sound Di capire come diavolo Riescono a far funzionare Un microfono karaoke Dentro la macchina Perché c'è un problema Di rientri Non da poco No comunque Aggiornamento Pazzesco Cioè veramente Non dico un holiday Update Però Tanta roba Però ripeto Io non pensavo Ma Tanti utenti Utilizzano Quando ho visto YouTube Music Perché io sono utente Dico ah che figata Finalmente Bello Però quando ho visto Anche su X Diversi utenti Americani Che pensavo fossero Solo o Spotify O Apple Music Quando ho visto Molti utenti Dire Ah che bello Posso disdire Il mio abbonamento Ah ho Spotify O Apple Music Per usare il mio YouTube Music Fì ci sono rimasto Ho detto Ma guarda te Bene bene Dai sono contento Perché ci voleva Secondo me Era giusto Estendere a tutti i servizi Principali Visto che sono questi Quattro ormai Quindi bene Infatti io mi aspetto Che arrivi anche poi Altre cose Lato video Quindi oltre a Netflix Ora Prime Video Si è arrivato Amazon Music Sì Perché non può arrivare Prime Video Se è arrivata Apple Music Perché non può arrivare Apple TV Plus Quindi Non peraltro Sono quelli che ho io E che non uso mai Quindi Continuerò a non usarli Anche avendoli Però ce li avrei Infatti questa è la domanda Che volevo farti Ale Cioè tu Quanto la usi Perché anche Prima che usavo la macchina Che ci andavo in giro Sarà perché all'inizio Quando avevo la macchina Ci andavo in giro Il tempo morto era Faccio video su YouTube E quindi non c'avevo tempo Per guardare Netflix Eccetera Però io sinceramente Non ho mai visto Cioè non ho mai guardato niente Giusto per provare Vedere se funzionava Quella volta lì E poi Per me Potrebbero averla tolto Da un anno E neanche mi sarei accorto Ecco Questo è il succo Del discorso Sì è vero che io Quasi uso Spessissimo Apple Music E uso spessissimo Apple Podcast In macchina Quelli I video Diciamo Li ho utilizzati Non tanto Ai supercharger Perché francamente I supercharger Già poco il tempo Per vedere un video Ma quando Magari devo aspettare Qualcuno Allora Sì è vero Raramente Rispetto al Ma il problema Diciamo che è mio Ma ancora Va oltre Nel senso che Neanche a caso Ho tempo di usare Cioè per assurdo Forse avrei più tempo In macchina Di usare Apple TV Plus Tant'è che Stavo meditando Io ho Apple One Che Mi costa 25 euro Al mese Quindi ho Un pacchetto Apple quasi completo Però Ho sei utenti Quindi lo dividiamo Insomma Un po' di gente E Stavo meditando Di Cazzo me ne faccio Cioè Apple TV Plus Non riesco a vedere I videogiochi Non hanno tempo Di usarli Alla fine della fiera Ecco Facessero una roba Che permette Di scegliere Quali servizi Abbinare Che ti fa il prezzo In base a questo Potrebbe essere Un'idea Perché poi Oggettivamente Sì 25 euro al mese Non sono pochi Per Se tu usi Tutto Ha senso Ma Così Sono un po' Buttati via Nel mio caso Vabbè Se dividi Con quante persone Nel senso Se sono 25 divisi Per 6 persone È diviso 6 Ma lo pago tutto io Quindi Però Ah Ok Non è È diviso Come utilizzo Ok Figlio Compagna Amici Eccetera Eccetera Però Sì Insomma Cioè Più roba mettono Da questo punto di vista Qua Meglio è È vero che Sottostante Devono fare degli accordi Commerciali Non è solo Di mettere Il Il Loghino Con Col programmino Quella penso sia Una puttanata Da un punto di vista Informatico È proprio Che devi Stringere un accordo E Aver visto Amazon Music Visto i rapporti Tra Musk E Bezos È già Con qualcosa Di Deve essere successo Qualcosa ragazzi Perché Cioè Era impensabile Era impensabile Però A parte Elon Che ci mette il vetro Secondo me Cioè Quella roba lì È facile Una quick win Come si dice No Ci metti poco A metterlo E È un risultato buono Quindi Cioè Tutta la gente Che usa quel servizio Dice Ah figo cazzo Guarda Adesso c'ho anche quello No Quindi per me Semplicemente hanno detto Ascolta Dobbiamo fare un bel aggiornamento Ci possiamo buttare dentro Qualcos'altro Che Ci si mette relativamente poco Ma fa un grande effetto Perché no Cioè Io fossi Bezos Gli avrei detto Guarda Caro Elon Metti pure Amazon Music Metti pure Prime Video Metti anche però Un'applicazione Amazon Così Mentre sei in viaggio I passeggeri possono acquistare qualcosa Prodotti Tesla su Amazon Qualcuno Qualcuno Io A favore Allora Se su Amazon C'è lo store Apple Certo Al tempo Al tempo era venuta fuori Quella notizia Che ti facciano C'era la colonnina Che tu guardavi la pubblicità E era gratis Magari Chi lo so Fra qualche tempo Bezos ti paga la ricarica Però intanto Ti pipì la pubblicità Del prodotto Che non vuoi L'avevano anche fatta Ma adesso Io ho sempre pensato Ma ha molto senso Cioè Non stai mica lì A guardare la pubblicità Esci dalla macchina Perché se stai in macchina Ti guardi un video Sul tablet Quindi Non la vedi Se vai a farti un giro A prendere un caffè Non la vedi Ha molto più senso Sfruttare il tempo di viaggio Per quelle cose Eh ma secondo me Era proprio quella La cosa Cioè nel senso Vuoi ricaricare gratis O comunque A prezzo super Iper agevolato Devi guardare La pubblicità Non potendola saltare Resistendo Quindi Se magari piove fuori E tu non puoi uscire Dalla macchina Abbassi il volume Della pubblicità E ti metti a guardare Qualcosa sul telefono Tipo una cosa così Non lo so Eh no Pubblicità solo a manetta Massimo volume Non ti deve Con Tipo Climatizzatore Impostato al massimo Che ti Inebria E ti Ok ok Vabbè ma fai la svelta Quando arrivi a un supercharger La macchina In automatico Come ti dà fuori i codici Per entrare In alcuni supercharger Partono le pubblicità Vuoi spendere meno Partono le pubblicità E tu alla fine di ogni pubblicità Devi cliccare su qualcosa Per dire che l'hai vista Esatto Così ti obbligo a vederla Un bel quiz Sulla pubblicità Tipo Qual era Il divano Che è in sconto Fino a domenica Esatto Quale prodotto Acquisteresti Tra questo Questo e questo Diventa un gioco Guardate che noi ridiamo Noi ridiamo Ma probabilmente Quello è Un metodo Adesso Quello di regalare Ma una parte Di 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 costo Secondo me È già più Fattibile Tutta La vedo ancora lontana Come possibilità Però il concetto Di pubblicità interattiva Direttamente da tablet Quello secondo me È Questione di Di anni Forse però È destinato a diventare Cioè la pubblicità Devi diventare divertente Perché non funziona più Se no quella che Schippi Quella che Che salti È normale Cioè però Pazzesco Wow Bene Altre novità A parte i microfoni A parte i microfoni E a parte Amazon Music YouTube Music E compagnia Arriva Sempre dalla Cina Naturalmente Un nuovo colore Per la Model 3 Arriva il Quicksilver Lo conosciamo bene Con la Y Vero Andre Esatto Ma soprattutto Ma soprattutto Lo conosceremo bene Anche su Model 3 Visto che questo Argento Mercurio Penso si chiama in italiano Diventa un colore Aggiuntivo per Model 3 Che farà la sua Bella figura Dai 2000 mi pare Hai già detto Quanto cosa Mi pare 2000 euro 2000 mi sembra Sì Credo 2000 Sì sì Mi sembra di aver visto 2000 È bello Andre Sì è bello È un bel colore Molto bello Considerate che Io non l'avevo mai visto Fin quando non l'ho ritirato Come per la prima volta La blu Mai vista da vivo È andata a ritirare Blu rimane sempre Comunque nel mio cuore Blu rimane sempre Il mio colore preferito Se mai dovessi Prendere un'altra Tesla Prima che la ordino Ricordatemelo Nella puntata Andrea Non comprare Sto cazzo di colore Che è appena uscito Comprati il blu Che poi Ci viene a dire Che il blu Ti piaceva di blu Lo sappiamo Che comprerai L'ultimo uscito A prescindere Anche se fosse Purple E questo qui Mi intrigava L'avevo visto in foto Come tutti quanti In video Eccetera Devo dire che è un bel colore C'è poco a fare Però Così A sentimento Mi sarebbe stufato Di meno Averla comprata Magari in un grigio Più scuro Adesso quando la vedo È comunque un bel colore Però Un po' mi è passata Ecco L'inizio mi piaceva molto Adesso è un po' Un po' andato fuori moda Ecco Per il mio occhio Io l'avrei chiamato Grigio Starship Più o meno C'è lì Eh ma quello lì È già del Cybertruck Quello è già del Cybertruck Proprio il grigio Grezzo Lastra Di acciaio E via Sai ma il primo pro Lo vedremo partire Attaccato alla Starship Eh Una volta Lo shuttle Ma la forma Infatti secondo me Lo mettono Vicino alla punta No? Così A mo' di Di piramidina Vedo l'ora Che ci sia il nuovo Il nuovo lancio Per vedere Il disastro Che sarà Quando arriva Su Megazilla Parla di Quattro mesi O quattro settimane Ho visto che ha Pubblicato un'informazione Non mi ricordo Perché è molto variabile A quel discorso So che stanno costruendo La seconda torre Più velocemente possibile Probabilmente Perché già si immaginano Di far fuori l'altra Però Ok Però a proposito Di Cybertruck Ragazzi Per via che Qualche anno fa Si diceva Eh ma non riusciranno Mai a venderlo A consegnarlo Nel Q2 È stato Il pick up Elettrico Più venduto In tutta L'America Quindi battuto Un po' Perché forse Per i numeri Non ho idea Però non Non mi ha stupito Di sicuro Ha tirato tanta attenzione Ma di sicuro Dal punto di vista Funzionale Lascia perdere Perché poi Allora In quel tipo Di prodotti lì La roba ti deve essere Utile Non ti deve piacere Tant'è che i pick up Normali Fanno schifo Dal punto di vista Estetico Secondo me Quindi Anche se Il Cybertruck Ti fa schifo Ma se dal punto Di vista funzionale È meglio Di un track Normale Vince Certo No no È così È semplicemente così E lo sta dimostrando E Restando in tema Di consegne Io mi sposterei Di nuovo in Asia Perché La Corea del Sud Ha portato Dei dati Molto molto Interessanti Perché Nella prima Metà del 2024 Quindi stiamo parlando Di sei mesi L'auto elettrica Più venduta È stata Model Y Quindi Nella terra Di Ioniq Nella terra Delle Hyundai E delle Kia Tesla Rimane al primo posto 10.041 10.041 Unità Per Model Y E al secondo posto Model 3 Model 3 Con 7.026 Unità Al terzo posto Abbiamo la Ioniq 5 Che secondo me È splendida Però vabbè 6.897 Però immaginatevi davvero In Corea del Sud Che è un mercato Molto molto caldo Soprattutto per l'elettrico Perché abbiamo Due dei produttori Che secondo me Spaccheranno in futuro E stanno già spaccando Adesso Soprattutto Kia Quando uscirà Con la EV3 Che secondo me È splendida Anche lei Però Ho visto una EV9 Per la mia Prima volta In vita mia Per le strade Di qua Di Piacenza Pazzesca Strepitosa Secondo me Però Comunque Tesla Riesce a vincere Cioè Vince anche In un mercato Così difficile Questo è un altro Segnale Che mostra I muscoli Di un'azienda Come Tesla Cioè Sono queste Le informazioni Interessanti Poi ovvio La Germania Fa fatica Però Era giusto aggiungere Mentre parlavi Mi venivano in mente I periodi Di quando Tesla Doveva Contuplicare La produzione Settimanale Per non fallire Nel giro Di tre settimane Eh Non era tanto Tipo fa No No Cioè Adesso io non ho Ben presente Il bilancio Di Tesla Perché francamente Me ne frega il giusto Però Credo che la situazione Di liquidità E di cash flow Di Tesla Sia un pochino Diversa Cioè Non sia sicuramente Impeggioramento A prescindere Dagli andamenti Delle vendite Più o meno Perché parliamo Di un'azienda Che comunque È a tetto Come capacità Produttiva Perché Gli ultimi numeri Che hai citato Se ricordo bene Quelli che avevo visto io Parlavano comunque Rispetto ai precedenti Questa volta Hai più vendite Che produzione Quindi Il magazzino Che diminuisce Che è sempre Una cosa sana Però Tendenzialmente L'azienda Sta producendo Sta vendendo Tutto quello Che riesci a produrre Non potrebbe produrre Il doppio Voglio dire C'è ancora Un'azienda piccola Da questo punto Di vista qua Della capacità Produttiva Il rischio Casomai È quando Ti sovradimensioni E non riesci Poi a Avere La domanda Per quello Che hai La capacità Di produrre Perché hai Dei costi Fissi Ma finché Tesla Può produrre Quanti sono Due milioni Adesso di macchine L'anno Largo circa Milione e mezzo Non mi ricordo più E quello che vendi Sei sano Anche se gli altri Ti avanzano Come concorrenza Però La tua azienda Continua A funzionare bene Dopodiché È chiaro Che se esce Un produttore Che ti surclassa Dal punto di vista Del prodotto Rischi di non vendere Più dopo Quello è il rischio Che i cinesi Arrivino così Il rischio Che diceva Elon Un po' di tempo fa È quello Noi rischiamo grosso Quei cinesi Tant'è che stanno Mettendo dazi Ovunque Non so cosa risolvono Quei dazi A lungo termine Ma vabbè Niente Però E poi non ho capito Se riguarda La produzione Cioè Le Tesla prodotte In Cina Quando arrivano Negli Stati Uniti O in Europa Subiscono dazio Io non ho capito Secondo me no Cosa fanno Almeno Mi raccontava Una persona Molto ben informata Dei fatti Che in Europa In realtà c'è Mi sa che l'hai sentita Anche tu questa storia Snugol In Europa Oltre alla Giga Berlin C'è un altro Stabilimento Di proprietà di Tesla Sì Di cui nessuno Si sa niente Quello stabilimento Lì di fatto All'inizio Veniva utilizzato Principalmente Per le auto Importate dall'America Che arrivavano Senza ruote L'unico scopo Di quell'azienda Immagino Ci fossero altre cose Da fare però Comunque L'unico scopo Era Rimettere le ruote Quindi L'auto veniva importata Come Non un'auto Assemblata Non venivano pagati Certe tipologie di tasse Che adesso non so Non saprei raccontare Quali esattamente E poi veniva Rimessa in strada E quindi di fatto L'assemblaggio Avveniva in Europa Se dovesse esserci Una cosa similare Immagino che Probabilmente Verrà fatto Una medesima Un medesimo cavillo Però Ho sfruttato Un medesimo cavillo Quindi Non credo che cambierà Molto Sinceramente A Tilburg Non mi ricordo Mi sembrava Tilburg Credo Mi sto confondendo In Olanda In Belgio O Olanda Olanda Mi pare Olanda Sì Mi pare Olanda Tilburg Sicuro Tilburg Tilburg Città famosa Solo per La sede Tesla Però Sì Questa è la strategia Anche se Ho letto L'articolo Che è uscito Proprio Negli ultimi Due giorni Di Tesla Che Sta Diciamo Trattando Con L'Europa Per la questione Tesla Creata in Cina E importata In Europa Per Probabilmente Tenere dei dazzi Un po' più Bassi O comunque Agevolati Specifici Proprio per Un brand Che Si produce In Cina Ma non è un brand Cinese Cioè non è che sta Dando valore Tra virgolette Solo Ad un brand Come può essere BYD Come può essere Neo Come può essere Qualsiasi Xpeng Ok Quindi un brand Puro Puro cinese Ovvio Produrre in Cina È vantaggioso Per altri motivi Anche se Poi il motivo Principale Secondo me È la qualità Del servizio Perché Sono molto 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 Model 3 Island In Italia In Europa In Germania Solo perché ci sono i dazzi Al massimo Aumenterà il prezzo Di quei 1000-2000 euro Che Amen Nel senso Su un'auto Di 40.000 euro Direi che sono Più che compatibili Ecco come aumento Non è un'auto Non è un'auto Da 14.000 Che ti diventa Un'auto Da 18.000 Allora lì Uccidi Veramente una Una bella fetta Di pubblico Interessato Vedremo Interessante Sapere Quanto è il margine Che ha adesso Tesla Sui vari modelli Margine medio Intendo Perché La sensazione È sempre che Abbiano molto più Margine degli altri Dal punto di vista Anche del margine Di manovra Scusate Il gioco di parole Perché allora Ti consente Di assorbire Molto Molto Meglio Queste Queste Fluttuazioni Altri Per altri Magari Vuol dire Produrre in perdita E lo puoi fare Per definizione Per un periodo Molto breve Per tenere Una quota Di mercato Quindi Sarebbe interessante Tesla Da dei margini Clamorosi Qualche Anno fa Probabilmente Ora sono ridotti Però Non credo Che siano Lili Da sparire Cioè Nonostante Ilon Avesse detto I suoi tempi Noi potremmo Produrre anche A margine Zero Tanto Vendiamo Autopilot Che comunque Lili Che arriva Cioè Non è che Stanno aspettando Che faccia Un'altra Scommesse Andrea Però Tutti lì Se vogliamo Che arrivi Facile La facciamo Subito La perdo E via Secondo me Non arriva Entro fino Anno E siamo a posto Una piadina Per far arrivare Il full self driving In Europa Titolo Una piadina Per le festine Però sì Insomma Credo che Siano ancora Bellissane Adesso Non so Di bisogno Guardare i bilanci Ecco Quello che dici tu Ale È vero Scusami Se ti interrompo Ma quello che dici tu È vero Nel senso che Tesla Ha questa immagine Di società sana Perché vende prodotti Guadagnando E questa cosa è strana Nel mondo dell'elettrico Perché anche guardando Ai cinesi Che tu dici No ma loro le sanno fare Le cose Ne vendono tante In realtà BYD Guadagna Abbastanza Su Il prodotto Ma se già ti metti A guardare Una NIO Se già ti metti A guardare Un Xpeng Fai molta fatica A trovare Case automobilistiche Che vendono In profitto Capito Quindi Il punto qual è Che questi dazzi Andrebbero a danneggiare Ulteriormente Società che Non navigano Proprio nell'oro Almeno per adesso Poi in futuro Sfonderanno E glielo auguro Ma soprattutto Il danno è Per noi europei Perché queste aziende Ovviamente Se già Non vendono guadagnando E in più Ci devono perdere Ancora di più Allora dicono Beh io me ne sto in Cina Che tanto qui Stiamo capendo Il valore dell'elettrico E buonanotte È stato bello Tesla farà I suoi accordini E venderà comunque Un po' ancora in Europa Ma anche Tesla Dirà ragazzi Forse ci conviene Di più vendere in Cina In Corea del Sud In Giappone In Taiwan Che ne so Tutti questi posti In Asia L'Europa rimane indietro Se non con Model Y Da giga berlino E va bene Ti sembra che Non la fermi così Cioè Prima hai fatto di tutto Per rallentare Per rallentare Il Come dire Il cambiamento No La transizione Adesso diciamo Cavoli Quelli però Stanno correndo più di noi Sì lo so Stanno correndo per quello Più di noi Perché noi all'inizio Abbiamo trovato il mito sopra E allora mettiamo i dazzi È come fermare il mare Con le mani Uguale Sì 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 Vedremo Vedremo Poi ragazzi Cioè noi Quanti prodotti Che usiamo Anche Pensate l'iPhone L'iPhone È assemblato in Cina È vero che i prodotti Arrivano da tutto il mondo Ma la roba tecnologica Il 90% Arriva da là E l'auto Notizia Ora è una roba tecnologica Non è più Un mezzo di trasporto E basta È un prodotto tecnologico Ma ormai Anche le parti non tecnologiche Vengono prodotte Per il 90% In Cina Ora ho comprato Una piscina fuori terra L'altro giorno Piccolina Ma in Cina Ed è 99% Plastica Quindi insomma Ormai è quasi tutto Anche l'acqua Anche l'acqua Anche l'acqua Che ci mette dentro E basta E poi Fatalità Stavano parlando prima In chat Su Twitch Dicevano Che ci sono un botto Di aziende italiane Che fanno così Con Il discorso Della Cina Nel senso Che si fanno arrivare Il capo Magari ad abbigliamento E poi ci mettono La firma sopra Oppure cuciscono un bottone Come faceva Tesla Che ci metteva le ruote Made in Italy Quindi non è Assolutamente Una cosa nuova Ci dobbiamo fare i conti Nel senso Che mettere i dazzi Secondo me Fatta la legge È trovato l'inganno Come scriveva qualcun altro Quindi I grossi Player Del mercato Troveranno La scappatoia Il modo Parleranno Con chi di dovere Burocratico Di turno E insomma Troveranno La scappatoia Chi ne subirà Veramente i danni Sono i medi Piccoli Produttori Che Non hanno magari La capacità Di strutturarsi Per arrivare A una A mettere in piedi Il capillo Esatto L'accordo Esatto Sì però Poi alla fine Della fiera Quello che conta È il mercato Cioè nel senso Il mercato europeo Interessa Non interessa Quanto interessa Perché è lì Che si gioca La partita Perché se il produttore Dice ma io sto facendo Tutte queste Tutte queste procedure Per che cosa Per arrivare in un posto Dove Non mi mettono Incentivi Oppure la gente Mi dice No ma io acquisto Ancora il modello Che producono Qui da me Della marca Che conosco Cioè devono capire L'opportunità economica Ripeto Secondo me Ad oggi L'opportunità In Europa C'è ma è Relativamente piccola Se paragonata A quella di Asia E Stati Uniti Cioè io fossi Un brand cinese Vorrei arrivare Assolutamente Negli Stati Uniti Nonostante Gli Stati Uniti Chiudano a Qualsiasi tipo Di tecnologia E l'abbiamo visto In passato Huawei E compagnie cantante Quindi Dipende Dall'opportunità E tra l'altro A proposito Gli Stati Uniti E poi do la parola D'Andrea Perché ha portato Una notiziella Che potrebbe essere Interessante per noi Italiani In questo periodo Negli Stati Uniti Tesla Offre Mille dollari Di sconto Per tutti Coloro Che hanno servito L'esercito Americano Quindi tutti I veterans Come li chiamano La E anche Le loro compagne Le loro mogli Fondamentalmente Hanno diritto A mille euro Bonus Di sconto Per Sia Model 3 Model Y Model S Model X Quindi questa È Quell'attenzione Che piace tantissimo Secondo me Degli americani Verso Chi ha servito Il paese Proprio mettendoci Tutto se stesso E secondo me Lato marketing È una giocatona Proprio Giocatona Clamorosa Che costa Tra virgolette Poco Secondo me La Tesla Perché Mille dollari È Non dico simbolico Perché sicuramente Vale tantissimo Però Il ritorno È superiore Rispetto Allo sconto Poi proposto E soprattutto Vai a toccare Una fascia Di utenza Che secondo me Tesla Non la conosce Proprio benissimo Ho questa sensazione Vabbè Perché dici? Perché Per curiosità Perché secondo me È un po' Non lo so È una fascia Non proprio smart Non lo so Mi immagino Anche il colonnello Che ormai È in pensione Avrà 70 anni Può esserci Ovviamente Ci sono anche Persone Che hanno servito L'esercito Che adesso Hanno 40 anni E sono tornate E via Però Che magari A 20 anni Erano in Iraq O chissà dove Però dico solo Che secondo me C'è un'alta Fascia Di utenza Che qualche anno In più Ce l'ha E che secondo me Il mondo Tesla Non l'ha mai Approcciato Io credo Queste sono tutte Supposizioni Il fatto che Ti arrivi all'orecchio L'idea di Guarda che c'è Questa casa Automobilistica Che ti dà 1000 euro Solo perché Hai servito Il paese Che è una cosa Che non penso Di aver mai letto Sentito Probabilmente Qualcuno l'ha già Fatta in passato Però È una bella giocata A me è piaciuta Teniamo presente Che ci sono Per esempio Delle cose Che Tesla Non fa E questa cosa La so per certo Per esempio Se sei un diplomatico Molte case Automobilistiche Ti offrono Uno sconto Sostanziale Per acquistare L'auto Con loro Sono sicuro BMW Perché ho un amico Che ha comprato Una BMW Elettrica Invece di Tesla Perché è andato lì Da Tesla E gli ha detto Ma a me Che me frega Che sei diplomatico Ti arrangi E quindi ha detto Vabbè Tra le due auto Mi prendo la BMW Che gli piaceva Tra l'altro Esteticamente di più Magari un giorno Verrà a raccontare La sua storia Perché non è stata Una delle storie Più felici Per questa BMW Che ha ritirato Però Insomma Questo è un altro paese Però è stato Poco diplomatico Beh insomma Comunque BMW Fa sta roba qui E probabilmente Anche altre case Produttrici Quindi sicuramente Ci sono questi Meccanismi Che noi conosciamo Molto poco E che Tesla Magari sta iniziando Ad approcciare In questo momento Per Anche per motivi Di pubblicità Adesso magari Con i veterani Non prendi Tutta questa Grande pubblicità Non lo so Magari in America È molto più sentita Questa cosa Quindi sicuramente Ha una risonanza Interessante Però insomma Ci sono questi Meccanismi Anche in altri Campi Ecco Mentre per quanto Riguarda la notizia Se non abbiamo Altro ad aggiungere Qui È Riguardante Le colonine Di ricarica Per le auto Elettriche Che sono Da domani O da oggi Se state ascoltando Il podcast Di lunedì Comunque Dal lunedì 8 luglio 2024 Sarà possibile Prenotare No Prenotare Richiedere Il contributo A fondo perduto Fino a 1500 euro O 80% Di quello Che è stato Il costo Per l'acquisto Della colonina E l'installazione Comprese anche Piccole opere Murarie Strettamente Relative All'installazione Della colonina Che deve essere Già messa in opera Se non ricordo male Quindi È fino a Esaurimento Fondi Che sono 20 milioni Se non Ho letto male Comunque In ogni caso Vi servirà lo speed Ci sono tutte le modalità Ho guardato il sito Ed effettivamente È fatto molto bene Quindi È inutile che sto qui A ripetere esattamente Cosa dovete fare Perché tanto poi Ve lo dimenticate Chiaramente Sa avere Pagare Il bonifico Le solite cose Che sono Accadute anche Per precedenti Incentivi Di questo tipo Quindi Questa è una cosa Buona È l'unica cosa Che non mi è Sembrata tanto Buona Insomma A cavallo donato Si dice non si Si guarda in bocca Esatto Comunque L'unica cosa Che insomma Un pochino Mi ha fatto Storgere il naso È che L'anno scorso Se non ho capito male I fondi erano 40 milioni Quest'anno 20 Quindi C'è una tendenza Discendente Sotto questo punto di vista Non è ben chiaro Il perché Non ho sinceramente Indegato Perché tanto io Non accederò Accederò Al fondo Quindi non E anche se Dovessi accedere al fondo Mi frega Mi frega relativamente poco Perché hanno tagliato Di metà L'incentivo O meglio La quota Incentivabile Quindi insomma Se avevate intenzione Di installare una colonina Adesso Meglio Muovetevi Perché potrebbero finire Prima che finite Tutte le opere Perché Ripeto Se non ho capito male Deve essere già operativa Alla colonina Per poter Richiedere l'incentivo E se avete intenzione Di comprare una Tesla Sappiate che il carichino Ora ve lo dovete comprare Non ve lo danno più 200 euro Optional Hai capito Questa è una novità Molto interessante Proprio poco Veramente Non ci sarà più niente Dentro queste Tesla Perché Eravamo partiti con tutto Dopo hanno cominciato A togliere i tappetini Togliere il radar Togliere i sensori Di parcheggio Togliere l'home link Quello che ti apriva il garage Tu mi sai che ce l'hai ancora Vero Ale? No Però Mi immagino già lo slogan La Tesla Con il più grande spazio Nel bagagliaio Di sempre Tolgo roba E quindi C'è più spazio Marketing Anche la più leggera Di sempre Perché tanto Continuano a pagare roba Non c'è più niente ormai Comunque Ho usato tantissimo Il carichino Però È fondamentale Avercelo Quello sì Eh sì Direi di sì Però Scusa Ricordati quello che stai Per chiedermi Però è giusto Da una parte Perché Siamo ancora presto Per fare questa tipologia Di ragionamento Ma è un po' Lo stesso ragionamento Che si fa per i cellulari Dove non ti viene più Dato il carichino È vero È vero che sono due cose Completamente diverse Da due costi Completamente diversi Però è anche vero Che io per esempio Che ho acquistato due Tesla Io dei due carichini Non me ne sono fatto Assolutamente Niente Quindi Adesso mi ha dato indietro Non mi ha chiamato Un altro Questa però Vedi Nella esperienza Brutto utente Perché Tu devi sapere Intanto Prima di andare via Che la macchina Possa ricaricare Quindi secondo me Deve funzionare Questa roba qui Uno Quando anche se la compri Su Amazon E due Quando te lo ordini Ti ordini l'MG Il tizio ti deve dire Guarda che ti serve il carichino Ce l'hai il carichino? Sì Allora apposta Non ti rompo le palle Se no Provo a venderti Quello di Tizio di Caio Sempronio Se sei uno smart Te lo compri da solo Per carità Però insomma Fatto meno darti Le specifiche Di che tipo di carichino Prendere Perché magari Può essere non compatibile Per una serie di motivi E tu non lo sai E credo Probabilmente Quello che è successo allora Adesso non conosco bene L'MG4 Però Non è stata Effettivamente Loro sono trovati Quella macchina Arrivata a casa Caricava Non ho capito bene Ma Riusciva un po' a caricare Prova dei problemi L'ha mandata indietro Hanno dovuto cercarne un altro Eccetera eccetera Quanto meno una convenzione Voglio dire No Tu mi vendi la macchina Tesla ti dice Ok lo vuoi? Ti do il mio 200 euro Ti do il mio MG dovrebbe dire Ok non lo facciamo noi Perché non siamo Tesla Però c'è questo di questa marca Che lo puoi prendere In convenzione Magari a 100 euro di meno Del prezzo ufficiale Che ne so Ma anche se fosse pieno Chi se ne frega L'importante è che funzioni Non è un lo vuoi Non è un lo vuoi Ti serve Cioè nel senso Se non ce l'hai Compralo Se no io non ti faccio quasi uscire Da questo concessionario Perché poi ritorni da me Tra due giorni Cioè Se ci arrivi Se ci arrivi Esatto No vabbè Comunque Andre Avevo fatto un rapidissimo calcolo No Di 20 milioni Diviso 1500 euro Di bonus E saltano fuori Appunto Queste 13 mila unità Quindi potenzialmente 13 mila Punti di ricarica Tanti Pochi Non è male Secondo me Non è male Non è tanto Perché qualcuno Prima in chat Diceva che Di unità familiari Ce ne sono 13 milioni Sai che prima Stavamo facendo i conti Sui megapack Adesso non ricordo Se era 13 milioni Comunque sono giù di lì E 13 mila 13 milioni Siamo sempre Un fattore mille Però comunque Insomma Schifo non fa Per carità Considerate che Non potrà essere fatta La porcata Che hanno fatto Con gli incentivi Delle auto elettriche Perché leggevo Che gli incentivi Delle auto elettriche Ci sono state Molte compagnie di noleggio Che le hanno presi Anticipate Quindi sono finite Tutte quante In questo caso È solo valido Per i privati Privati E o condomini Dove il tetto È più alto Di 1500 euro Mi pare 8000 euro Però insomma Quindi è solo Per i privati Questa roba qui Quindi Ci sta Secondo me Va bene Direi che Comunque A proposito di esperienza Utente Vi chiudo il discorso Della MG4 Dei miei amici Arrivati Appena gli danno La macchina Però c'è su un aggiornamento Molto vecchio Bisogna aggiornarla Dovete portarla In officina Adesso mi ricordo In Piemonte A Cuneo Credo E quindi E quindi loro Con la macchina Che caricava male Dovano farsi Anche qualche Centinaio Di chilometri Per andare A fare L'aggiornamento Vabbè Io sono Quando me l'hanno raccontato Sono corso A abbracciare la Model 3 Che era il terzo Aggiornamento Nel mese Ma questa roba qui Prima o poi Acquisina Un valore Talmente alto Cioè io A me piace pensarmi Come uno Che Il prototipo Dell'uomo del futuro Uno non ci voglia Di fare un cazzo Deve arrivare tutto Da lui Hai capito Ma diventerà Talmente Obbligatorio Talmente Una feature Importante Che non devi romperti Le palle A avere la macchina Che Diventeranno I nuovi Diecimila euro Hai capito Sai che una volta Erano in supercharger Adesso Cominciano a solittare Sì è vero Quello che mi hanno detto Loro Perché Cristiano Allora Cristiano La versione Quella Il papà di Cristiano Più Più luxuri Diciamo E comunque Mi ha detto Che è andato in officina Almeno la prima volta A fare l'aggiornamento Però da quello Che mi hanno detto Loro Che gli hanno raccontato In officina Questa cosa Cioè La versione Migliore All'aggiornamento Otiata Gli altri Devono andare in officina Cioè che Che sia così È una puttanata Clamorosa È una puttanata Clamorosa Perché non puoi Giocare l'optional Su quella roba lì Su altre cose Ma lì È dargli una martellata Nel È proprio Cattiveria Cattiveria Se esco Eh vabbè Niente Direi di chiudere Con questa bella notizia Ale Ragazzi Intanto che noi Stabiliamo Quando fare le ferie Perché in questo periodo Diventa complicato Trovarsi a volte Per me sicuramente Ma che è anche un po' Per gli altri E mi raccomando Condividete il podcast Poi quest'estate Quando saremo in ferie Riascoltatevi le puntate Che non avete Già ascoltato O riascoltatevi Quelle che avete Già ascoltato Che almeno ripassate Però insomma Per il resto State bene Ciao a tutti Fantastico Ciao ragazzi